Siamo a Milano in piazza Gaolenti. Siamo di fronte alla torre in costruzione. Il progetto è composto da due torri distinte, la torre est e la torre ovest. La torre est sarà la futura sede di KPMG, è composto da 23 piani fuoriterra e 4 piani interrati, mentre la torre ovest è composta da 14 piani fuoriterra e 3 piani interrati. Un po' più piccolina rispetto alla sorella maggiore, che è molto più imponente, insieme le due torri sono i portali definiti di Melchiorre e Gioia. Infatti il progetto si chiama i portali Gioia 20. Il progetto è un progetto molto sfidante perché inserito in un contesto urbano molto antropizzato è molto difficile. Tra l'altro l'area è molto ristretta per un edificio di questa importanza e la logistica in questi termini è davvero complessa e di difficile gestione. Su questo con Ulma abbiamo fatto un gran lavoro di collaborazione e di logistica importante. Ulma in questo cantiere ci ha fornito tutta l'attrezzatura di carpenteria, quindi sia i casseri tradizionali e rampanti per i nuclei, tutta l'attrezzatura legata al banchinaggio dei solai e tutta l'attrezzatura relativa al windshield che abbiamo montato per la protezione dei solai. Chiaramente la logistica qui che è particolarmente complicata, abbiamo dovuto fare una serie di coordinamenti con Ulma per montare i pannelli di windshield in un'altra sede e attraverso i trasporti eccezionali portarli qua e montarli dopo aver fatto il preassemblaggio fuori. Con i tecnici della Ulma abbiamo creato una grande sinergia per riuscire a progettare una macchina che non solo assolva diciamo alle problematiche tecniche della costruzione ma che sia soprattutto incentrata sulla sicurezza degli operai che devono andare a lavorare all'interno della macchina. Quindi abbiamo modificato più di una volta la casseratura in modo da renderla il più sicura possibile indipendentemente dall'errore umano che si può venire a generare in determinate circostanze. Abbiamo avuto dei momenti soprattutto alla fine dove ci sono state diverse modifiche da affrontare e quindi tra riunioni piuttosto che comunque momenti in cui il problema si verificava e si scopriva a livello fisico proprio il momento del rampaggio. La domanda e risposta era sempre molto meno logica. Il rapporto con l'ufficio tecnico per la risoluzione dei problemi giornalieri è molto efficiente perché a problematica la risposta avviene in tempi brevi. Dal punto di vista della sostenibilità Ulma contribuisce anche al raggiungimento del credito LID e BRIM quindi certificazioni di un'alta valenza per quanto riguarda la sostenibilità ambientale essendo che le strutture impiegano materiali riciclati sia nelle parti in acciaio che nelle parti in legno. Insieme all'ufficio tecnico ICM è nata un'ottima collaborazione in modo da portare avanti il progetto e instaurare una collaborazione e una mediazione tra la progettazione e l'assistenza e la sicurezza stessa del cantiere per poter sviluppare tutta l'opera. Grazie a tutti! Grazie a tutti!